Buongiorno ragazze dalla mia stanza, sono stata strattata dai miei figli come solito. Mi sono messa in quest'angolo perché a seconda di come gira il sole, di com'è la luce, oggi è una giornata pessima, da una parte siamo chiusi in casa, poco male. Volevo ancora, insomma, tra virgolette rispondere, ringraziarvi a tutti i messaggi. Manu, come sai, grazie del sorriso, grazie della leggerezza, continuo a fare video, continuo a fare video come fanno le altre youtuber e trucchiamoci insieme, ma anche se siamo in casa, vestiamoci insieme, abbinamenti, fai vedere i tuoi trucchi, mi avete dato tante idee, siete state preziose per me, mi avete tirato sul morale anche a me in certi momenti e devo dire che l'Italia sta rispondendo bene come sto rispondendo io. Non voglio dire che ero stata una delle prime perché in contemporanea tutti gli italiani, anche qui a Roma, non so se da voi, dalle vostre città, ho visto ieri sera fuochi d'artificio da casa, gente che suonava, cantava ai balconi, ci eravamo organizzati, giravano dei post su Facebook, su WhatsApp, quindi la miglior cura è il sorriso e l'italiano ce la fa, ce la fa sempre, anche questa volta, ce la faremo. Sono felice, mi hanno contagiato di nuovo, è stato uno scambio di sorriso, uno scambio di allegria per le persone che invece purtroppo a me vogliono continuare a sguazzare, a cercare il marcio e a cercare di attaccare gli altri perché loro in queste situazioni fanno questo, rispondo solo che l'Italia è con noi, con il sorriso e con la leggerezza, perché solo così lo batteremo. Non sono un medico, l'unica cosa che posso fare è seguire le direttive dello Stato, stare a casa, oggi un po' di oggi uscirò per mia zia, farmacia e supermercato, non mi nascondo perché devo per necessità, non voglio far uscire lei che ha 80 anni, mi muovo io, mi sono tanto arrabbiata con lei che avendo 80 anni se ne andava in giro al supermercato, più che altro perché dove vuoi che va. E ragazze, la miglior cura appunto, come dicevamo anche con Laura, va nel make-up, è il sorriso, quindi spero di avervelo portato, una ventata di freschezza, di leggerezza, cercate di, sì, guardate le notizie, ma non vi fossilizzate, non vi affossate perché ce la faremo. Hanno fatto anche i bambini dei disegni, quindi mi è meglio di loro, stai rispondendo in questo modo, forse sarò bambina anch'io, con l'arcobaleno che ho scritto ce la faremo. Quindi rispondo di nuovo a quelle persone che volevo dare leggerezza e mi dicevano ma in questo momento fare queste cose. L'80, il 90% degli italiani è con me, la pensa come me. Gli youtuber stanno facendo questa cosa, stanno continuando a fare video, in modo che voi, noi, tutti insieme possiamo un attimo respirare e distrarci da quello che sta succedendo, non perdendo di vista la situazione di momento, ma cercando di affrontarla al meglio, con il sorriso e con la forza. Non dobbiamo deprimerci, dobbiamo andare avanti in quello che si può fare adesso. Io, dal canto mio, da casa, faccio questo. Cerco di continuare la mia quotidianità adattandola. E quello che chiedo a voi, non toglietevi il sorriso. Non vi abbattete, non vi sentite in colpa se la mattina vi alzate e avete voglia di truccarvi. Dovete reagire. Ed è quello che dicono poi i medici, anche agli altri, anche a quelli che sono malati di tumore. Questo, bisogna reagire. Non buttarsi giù. E spero che anche quelle quattro persone reagiscano invece di fare in questo momento. Basta, ragazzi. Anche sotto le foto della Panicucci, quello che non ho potuto leggere, io stimo quella donna che continua a fare trasmissioni utili con medici e domande. Questo sta facendo il suo lavoro. Non è che la televisione da un tratto chiude i battenti perché, cioè ragazzi, famola finita. Come si dice a Roma, famola finita. Volete continuare a scrivere cattiverie? Accomodatevi. Vi ignoro. Vi ignoro col sorriso. Andiamo avanti. Allora, che cosa sto indossando? Maglia di Katia. Mi sono già messa maniche corte perché mi sento già in un buddha primaverile, bello carico, con questa maglia lilla bellissima, che mi ricorda molto delle maglie che avevo preso alla Stefane e che voi amavate. Stessa lavorazione, molto delicata, molto curata. Veramente bella in questo colorito. Poi ho i miei gioielli di Happiness Boutique. Ultimamente sto mettendo più le stelle, però li sfrutto tutti, sono molto belli. Mi ci sono fatta anche la doccia. Oggi ho lavato i capelli, mi sono truccata e via dicendo. Bracciali di Marlou, in oro e in oro rosa e i miei soliti anelli. Allora, che non ho messo la fede perché l'ho dimenticata sul lavandino, però ormai ho iniziato il video e mio marito guarderà il video e dirà a me. Pescorando le cose che avevo acquistato prima del chiusura, tutto quello che era successo. Quindi ve le mostro proprio in tranquillità e spero di poterle indossare al breve, se no le indosserà per farmi un giro in casa. Questo abito carinissimo, sempre di Katia Jacquet. Sto mostrando tutte le cose di Katia Jacquet. Mi piace dirlo Katia, non me ne volere. Carinissimo veramente. E tono celeste, polvere. Sapete che amo e ricerco queste colorazioni, Katia lo sa. E anche lei ama molto i colori, per cui ecco qui. Rifinito benissimo con questo polsino, con il bottoncino celeste, dono su tono, ragazzi. Sexy, romantico e pastello. Celeste, uno dei miei colori pastello, che sta superando anche il rosa cipria, che amo. Mi piace tantissimo. Potrò di metterlo con qualche spolverino azzurro che ho qui sempre preso da Katia Jacquet. Poi, questa gonna a pieghe, tutta a veli, che avevo fatto vedere nel negozio poi, che avevate già visto, che mi piace tantissimo. Sapete che amo le gonne a pieghe e le... non posso fare a meno di scendere le gonne a pieghe. Poi, se le trovate un po' lente in vita, qualcuna come me, potete metterci delle cinte, che io ho presi sempre da Katia. Ecco, tipo queste, che vendono anche da Stradivarius in questo momento, queste a fascia. E io poi, nero, bianco e celeste, come dicevo a Katia, lo amo. E questa è un'altra dei suoi pezzi meravigliosi. C'è in tantissime varianti questa gonna celeste da Katia. E qui proprio, stando un velo di... Non pietoso, anzi, che vi devo dire con questa fantasia. Rosa albicocca e questo celeste polvere. Qui proprio si racchiude proprio. Poi è di un liscio e morbido incredibile. Credo che questa sia la taglia S. Non mi ricordo, adesso comunque me l'ha presa Katia, quindi so per certo che sa quale sono le mie visure. Bellissima anche questa, molto delicata da mettere con un trench lungo. Io il celeste poi lo vedo tantissimo anche con le crew. Quindi con un trench anche quello classico, lungo, vestita di celeste sotto e wow. Perché no? Celeste e color crema anche. E poi ho preso, c'era anche celeste, questo magnifico gilet. Io sapete che amo il gilet così. L'ho preso bianco, nonostante ne ho un altro bianco, ma c'è anche celeste. Non escludo di prenderla anche questo celeste. I prezzi, vi rimando a lei, questo stava sulle 25 euro. Comunque potete scriverle anche se a casa lei fa molto piacere. Questo, come potevo poi non prendere questa? Con il lilla, col verde, col nero. Guardate quanto è bellina anche sotto questa maglia. È molto sbarazzina, pieghe, con dei tronchetti anche nero. Oppure con le scarpe, il tronchetto o cuoio. Una maglia bianca, la borsa bianca o cuoio. Questi colori primaverili, questa fantasia è meravigliosa. Mi piace tantissimo. Io credo e spero di stare a fare il traione al lato. E ultimo, ma non da ultimo, questo pezzo meraviglioso. Questa giacca in eco camoscio. In eco camoscio. Di questo celeste polvere, bellissimo. Io credo che vi sto mostrando tutto al lato. Oggi sono molto carica, molto uforica. Ve ne state accorgendo. E anche questa non vedo l'ora di indossarla. Magari con la gonna a pieghe. Perché ho visto che è della medesima tonalità. Wow. Farò il traione e gli outfit con questi capi. Anche in casa. Per battere la noia, la depressione. Tutto, tutto. Ce la faremo, 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 ce la faremo. Ce la faremo. Ragazze, per questo video, per questa diretta era tutto. Vi lascio contatti, Instagram, per le dirette. Perché sto facendo tantissime dirette per tenerci compagnia. Sto cercando di farle anche qui su YouTube. Quindi vediamo un attimino. Vedo che alcune si collegano, altre non riescono a collegarsi. Ho visto tante cose celeste qui nel mio armadio. Rimango estasiata. Alcune si collegano, altre non riescono a collegarsi. Non riesco a capire il perché. Quindi state allerta perché faccio dirette su Instagram e su YouTube. A qualsiasi ora del giorno siamo in casa. Quindi attaccherò la diretta e farò... Farò, non lo so, quello che farò. Ci racconteremo. Faremo di tutto. Nell'info trovate tutto contatto di Katia per scriverle, per sapere come sta. Non so se lei sta lavorando da casa perché non ha un sito. Però tramite la pagina ha delle cose a casa perché lei comunque una sorta di magazzino in una stanza celata. Adesso non so cos'ha disponibile. Però sta a casa anche lei, scriverle, le fa comunque piacere. Prenotate i capi, che ne so. È sempre un modo per rilassarci e non pensare troppo, troppo, troppo alla situazione. Da una parte ci devi pensare, dall'altra ti devi un attimino fare forza. Se può essere un modo questo, non lo so, fate dolci, guardate le ricette, rimettetevi a posto la casa, come sto facendo io. Sto passando il mio tempo facendo la mattina le pulizie di casa a fondo. Ho deciso ogni mattina di fare una stanza, proprio a fondo. Rimettere a posto tutto. Sto sfruttando questo tempo in questo modo. Nel migliore dei modi, per ripetere la parola, metto a posto, metto a posto le fotografie, documenti, mi riordino tutti i documenti di casa, le cose dei bambini, le fotografie dei bambini. Poi magari piego i panni, pulisco l'armadio di mio marito. Sto facendo un sacco di cose in casa che magari quando andavo al lavoro e con la vita frenetica che abbiamo sempre fatto non riuscivo. Quindi prendetevi il vostro tempo, maschere di bellezza, tutto quello che vi fa star bene. A me pulire la casa vi fa star bene qui l'ordine, vi fa star bene qui. A volte mio marito mi dice che sono pazza, passo l'aspirapolvere anche due volte al giorno. Vi fa sentire meglio soprattutto perché io comunque ho fastidia al polline, quindi anche quello. E quindi scrivetemi, vi aspetto numerose qui sotto, su Instagram, su direct. Teniamoci in contatto, grazie dei commenti, grazie dei messaggi e ci vediamo al prossimo video e alla prossima diretta. Ciao! L'euforia è con noi! Pazzia! Ciao ragazze, ciao!